Parti quel cappello anche a D'Aburgo? Un cowboy fa sempre colpo. Il 6 dicembre 1976. Non c'è nulla da temere, altro che la paura. Andrew Pogash-Dervat non è mai morto. Hai cambiato il blu? Il costo migliore è a una stazione del metro, l'Etoile. Lì, infatti, il nostro uomo cambia treno. Tieni la pistola in tasca, così, e poi spara. Loro corrono un rischio e io ne corro un altro. E questo mi fa sospettare che tu possa essere ancora più sparco di tutti i tuoi amici. Loro corrono un rischio